Il T-Alert è uno strumento che la protezione civile nazionale in ottemperanza alle accordi europei sta mettendo in campo su tutto il territorio come strumento informatico per avvisare la popolazione per eventuali pericoli che possono manifestarsi nel breve o medio termine. Nello specifico, questo primo test riguarda quattro tipi di problematiche, che sono i maremoti, le eruzioni volcaniche, il pericolo chimico e il pericolo nucleare. Le sperimentazioni che stiamo facendo ci faranno capire quali sono i limiti e le potenzialità. È uno strumento nuovo, chiaramente dobbiamo capire quant'è la diffusione del messaggio e quant'è la sovrapposizione con aree non interessate dall'evento, questo è uno dei temi per far sì che poi il messaggio sia mirato ai soggetti che effettivamente ne hanno bisogno. Quindi sullo sviluppo futuro, su cose più contenute e più concentrate, dovremo vedere come vanno le prime attività di sperimentazione e magari anche i primi test reali. È un messaggio in arrivo che non si focalizza sul numero ma viene diffuso attraverso le reti, quindi arriva tutti i telefoni che sono agganciati alle reti telefoniche ma non vengono sostanzialmente recepiti i numeri che ricevono il messaggio e anzi per ritornare la buona recezione del messaggio deve essere proprio l'utente che si fa parte positiva nel rispondere sì ho ricevuto il messaggio e questo consente anche di capire come ha funzionato la sperimentazione.